Vorrei dare un'occhiata a quella che è la cima principale di quella zona, che è il Monte Ioannatz, che adesso andremo a vedere proprio nella sua salita dal costone meridionale, dalla cresta a sud. So che tu, insomma, ci vai spesso dentro delle parti, no? Diciamo che è molto comodo perché anche quando c'è la neve è abbastanza facile arrivare, minimo a Bocchetta di Sant'Antonio, se non addirittura al Dom, che è sui 960 metri, mi pare. Ma da lì veramente riempie il cuore fare quella salita in quel bellissimo prato intervallato a qualche striscia di Peccetta, eccolo lì, che è un panorama favoloso. Si arriva su fino ai quasi 1200 metri della cima, che è un panorama fantastico. Ma lì ci sono tante cose, avendo gli occhi aperti, per esempio un particolo particolare, il confine del comune tra Torreano e Faedis non corre sul crinale, perché una volta il crinale era o di uno o dell'altro. In molte vecchie carte di vecchi comuni si vede che il confine non è tracciato cartesianamente sul Spartiacque, ma dove c'era l'interesse. Lì, per esempio, quelli tamoris venivano a falciare fino all'ex caserma della finanza. Questo è sempre interessante studiare il perché di questi confini strani. Come abbiamo i confini strani, apparentemente adesso strani, qua giù sul Torre, per esempio, forse pochi sanno che la parte est di Sottoudini, come si chiama con la P per andare a Butria? Un povoletto? No, Premariacco. Premariacco. C'era Cerniglunz, vecchia, che era stata tagliata dall'aluvione, mi pare, nel XVI secolo. E solamente in questo secolo scorso è stata passata, quella fetta è stata passata, il comune di Premariacco. Premariacco. Ecco, immagini che abbiamo girato proprio qualche giorno fa, anche con l'aiuto del drone, proprio nei pressi della sommità di quello che è il Monte Ioannatz. Quella che vedete è l'antecima, possiamo chiamarla, ecco, quella che è la zona più interessante dal punto di vista panoramico, perché dopo la cima era proprio in realtà un po' più a nord, è immersa nel bosco ed è poco interessante. È una passeggiata veramente che potete fare con qualunque tempo, con qualunque condizione, a partire dalla Bocchetta di Sant'Antonio, oppure come diceva appunto Renzo, anche dal rifugietto che si trova alla base di questa bellissima costa, eccola qua. Diciamo che dalla Bocchetta di Sant'Antonio c'era interessante anche che c'erano fino a pochi anni fa dei bunker della Seconda Guerra Mondiale. Certo. C'è anche la storia un po', diciamo, gonfiata, del fanto improvvisato, dei mitraglieri che per 36 ore riuscì a fermare durante la Prima Guerra Mondiale la rotta di Caporetto un'intera divisione nemica. è una cosa un po' tirata. Comunque qui già queste immagini possono consentire di vedere il panorama fantastico. Si vede bene anche il mare proprio da quella zona lì. È una piccola cosa, quella strada militare che va su, basta chiedere a qualcuno perché non l'hanno fatta sul crinale che è così panoramico. È una piccola cosa, è una strada militare per cui era defilata alla vista e al tiro dell'eventuale nemico che per noi tradizionalmente viene da Est.